Salve signor Santa Croce, il nostro nuovo vicepresidente, innanzitutto le rinnovo il benvenuto in questa società e le volevo chiedere cosa significa per lei entrare a far parte della famiglia Real Pizzo e per giunta ricoprire una carica così importante. Guardi per me è la prima volta che entro nel calcio, non sono un esperto voglio dire ad alti livelli, però è una cosa che a me piace, è una passione che hanno i miei nipoti, una passione che ha mio fratello, però vorrei provare questa nuova esperienza e dare soddisfazione a Pizzo. Come lei ha già detto è una sua nuova esperienza, diciamo, è una sua prima esperienza in questo ruolo, cosa l'ha spinta a investire in questo sport e a Pizzo? Guardi perché vedo che è molto organizzata, vedo che anche, come posso dire, sono organizzati in modo abbastanza corretto, li vedo che fanno le cose con determinazione, non è una cosa fatta così a caso, ci stanno mettendo veramente il cuore, l'anima e tanti tanti soldi, vuol dire che se fanno questo lo fanno con passione, che di solito non si fa questo. Lei come tanti segue la nostra squadra da un paio d'anni sostenendola e apprezzando il progetto. Vuole lasciare un messaggio ai suoi nuovi tifosi? Guardi, io quel messaggio che lascio ai tifosi è che io quando faccio una cosa non mi piace farla bene e la faccio veramente con tenacia questa cosa per portare questa squadra avanti ma con tanta passione e soddisfazione. La ringrazio nuovamente, buon lavoro e forza a Real Pizzo! Sì, forza a Real Pizzo!